Salve a tutti amici e benvenuti ad un nuovo video. Nel video di oggi vi porto con me in una pescata super divertente dalla barca ad edging a cercare qualche bella seppia. Una pescata in compagnia di Andrea, una persona a me molto cara e vicina e anche in compagnia di Roberto. Sarà una giornata davvero divertente, ho cercato di fare diverse riprese e finalmente sono riuscito a racchiudere tutte queste riprese che avevo fatto in un singolo video, in un singolo montaggio. Spero davvero che il video vi piaccia e che vi divertiate anche voi nel vedere queste immagini e detto questo, buona visione a tutti! Iniziamo un po' sta giornata di pesca, che ci mettiamo per primo? Cerchiamo questo qua, la trigliozza. Siamo un po' a fondi, siamo sui sementri, metto un piombino piccolo, questo è un moschettone e poi metto leghi. Così non altera troppissimo il movimento. Oggi veniamo pescata con la cannuccia nuova, con la fiorita speciale che è assurda. Speriamo di battezzarla sta canna, Andrea. In assetto? E vai! E noi facciamo arrivare, eh! Guarda c'è, il nero! Vai! Il arancione! Sì, io ho quello naturale! E Robby, o che stai? Più o meno e... Per spettacolo! Ce l'abbiamo tutti! Vai, change! Prendiamo con l'arancio. Guarda che è proprio qui qua! Ehi, Sandri! Però è stato il fondo così, eh! Senti tutto, senti! Sulla sabbiata! Vai arancio, portacela, eh! Così, mentre andiamo via, vai, un'altra! Capitano! Guarda, guarda che è arrabbiata, eh! Aspetta, eh! Eccola qua! La prima per me, ma la sesta è aggiornata, Andre! Più o meno siamo là, eh! Spettacolo! E via! Come dai, ce l'ho! Eccola! Eccola! E vai! Oh, guarda come pompa! Sul naturale, eh! Eh, è carina, dai! Ci sta! Dai, dai! E bei colori che c'ha, oh! E vai! Guarda un po', che dice? Ci sta? Ah, sì? Che sì! L'ho lasciata! L'ho lasciata, ma c'è! Eh, cavoli! Mollato! Oh, ti ha seguito fino a sotto! Vai, Riccardo, la c'è da qua sotto, vai! T'ha seguito fino a qua, Andre! Com'era? Era piccolina! Ma ti ha seguito fino a sotto, eh! Ma non mi sembra neanche più piccolina! Eh, se ne che un'altra, eh! Vai, le guadino! Vai! Guadiniamo, va! Com'è? Oh, questa è grossa, non è quella di prima! Oh, aspetta! Oh, ecco la! Bravo, Andre! Spettacolo! Vai! Ah, no! Aspetta, mi ha mollato, Andre! Aspetta, eh! Eccola! Questa è bella! Ah! E questa, ti sa che bella, raga! Oh, dove sei? Per te vai indietro? Eh, sì, sì! Te la faccio... Eh! Eccola, vai! Porco canna! Madonna che seppio... Occhio, non ha preso l'amo, eh! L'hai presa? Eh! Mamma mia, che bestia! Madonna che bestia, raga! Porco Giuda! Beh, si andrà... Sì, sì! Eh, beh! Questa è assurda, oh! Che bella, Andre! Robby! Ma questo è seppione, cavoli! Porco cane! Che dire, oggi sta andando veramente bene! Per iniziare l'anno così, insomma, speriamo che sia un 2.22 tanto pescoso! Adesso, con Andrea e Roberto, ci stiamo avvicinando un po' più verso lì, va, rispendo, sperando in altre catture simili, ma, aspettacolo, è sicuramente delle belle e belle semplici! Me l'ha pittata tutta! Eh, vai! Oh! Perciò ce l'ho, eh! Ecco, ah, cazzo, l'ho lasciato! Ce l'avevo! Capito! Tieni tu, l'ho! Ah, e l'ha rimollato! Aspetta, che te lo frego io! Eccola! Vai! Eh, la terza volta! Va bene che va bene, però, insomma... Sembra pure carina, eh! Vediamo un po'? Ah! Ci sta! Eccola qua! Sempre con l'arancione, eh! Sempre, sempre, sempre! Allora... Guarda, guarda... Vai! Che arma ci sfoderi, Andre? Eh? Eh? Che asso nella manica di lì fuori? Eh, questo, questo è... È il killer! È il rosa shocking! Oh! Vai, eh! Partito rosa! Guarda! Vai, Andre! Se vuole il mo' scaldà! Ah! No, qua roba seria, eh! Eh! Eccola! Oh, grossa! Grossa, ragazzi! Questa è grossa, eh! Ah, la donna! Sarà un po' così! Eh! Aspetta, eh, Andre! Oh, aspetta, eh! Questa pompava subito, come l'ho ferrata! Mamma, è spettacolo, eh! Seppione! Oh, aspetta, Andre! Questa è grossa! Mamma mia! Aspetta, 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 aspetta! Sì, sì! E vai! Che bestia, raga! Che spettacolo! Questa, vediamo così! Questa è un altro pezzo e pione spettacolare! Stavolta sulla naturale, bellissimo! Guarda che rompetta, ci ha battuto! Eh, ma guardate che siete ossiduri, eh! La gara è aperta qui, eh! Quattro, cinque, quattro! Ah, io sarei adesso a quattro, eh! Quattro, quattro! E' l'ultimo! Vai, vai, Robby! Quattro e persi! La prossima devi fare a te, eh! Il polpo è il polpo! Lui fa a mirare il polpo! Ma, va, va, va! Fa le cinque, sempre! Vai, si rientra! La mettiamo a posto! Purtroppo, anche le giornate di pesca più belle, volgono al termine! E' stata una giornata davvero divertente, ragazzi! Ci sono stati tutti gli ingredienti per la riuscita di una fantastica giornata di pesca! Amicizia, condivisione, risate e stupore che solo questa passione può regalarci! Io spero davvero che il video vi sia piaciuto, ragazzi! E che vi sia divertito in nostra compagnia! Noi ci vediamo al prossimo video! Alla prossima!